Il Molise è arrivato per ultimo ma ora la lacuna è colmata. È stato inaugurato ufficialmente dal segretario nazionale Mino Carriero il movimento Labdem a Campobasso e sarà gestito a livello locale da Gianuario detto Mario Petracca. Un movimento non una corrente all'interno del PD hanno tenuto a precisare aperta a tutti gli iscritti e simpatizzanti del partito che crede nella necessità di restituire ai cittadini la possibilità di influire nelle scelte del PD con un occhio di riguardo al Mezzogiorno d'Italia così come lo concepisce l'onorevole Gianni Pittella. Abbiamo fatto tutto questo attraverso anche l'adesione su spinta di Laboratorio Democratico del Partito Democratico per la prima volta aderisce con convinzione al Partito Socialista Europeo. Voi sapete che il nostro presidente onorario è l'onorevole Gianni Pittella che oggi ricopre il ruolo massimo del Partito Socialista Europeo in quanto è il capo dei socialisti e democratici europei. Stiamo cercando come rilanciare il PD. Noi vogliamo innanzitutto che il PD ritorni nei territori e vogliamo che il Partito Democratico cominci a riscoprire la sua specificità, quella di stare tra la gente, di guardare negli occhi le persone, parlare dei propri problemi e perché no dare anche delle risposte importanti. Tra questo noi stiamo cercando di girare l'Italia, stiamo spingendo attraverso i nostri rappresentanti istituzionali che sono parlamentari, governatori di regione, assessori regionali, consiglieri comunali e una squadra di istituzioni, di rappresentanti istituzionali che stanno per davvero costruendo una grande forza riformista qui in Italia. Grazie Grazie